Il segreto. Puntata di mercoledì, 20 settembre 2017. Severo, si mostra gentile e cortese nei confronti di Adela, ma la donna nota qualcosa di strano nei suoi occhi. Ippolito, tiene il concerto di Natale. Grazie alla collaborazione di Elodia, tutti i cittadini di Puente Viego, lodano le doti canore ed organizzative del Miranar. Don Anselmo, sa perfettamente perché Camila, invece di essere felice, è molto triste. Il bambino che aspetta, potrebbe essere di Nestor Garrion. Sonia, l'amica di Cella di Emilia, non riesce a far confessare alla donna la verità. La locandiera, continua a sostenere di aver ucciso Sol. Alfonso, in locanda, trova un messaggio sospetto. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. . .